Buonasera, siamo in una situazione attualmente molto triste dal punto di vista politico. Ci sono delle cose che non funzionano, i nostri politici non sanno cosa fare, spesso devono fare ciò che dice Mamma America, la colpa di chi è? La colpa è dei politici che stanno là, ma questi politici come sono arrivati là? Questo è il punto, non è che questi politici sono arrivati là con la forza, sono stati eletti democraticamente, ci sono state delle persone che sono entrate in cabina e rispettando il principio democratico li hanno votati e li hanno mandati là. Ora quello che stanno facendo da diversi decenni è meglio non parlarne. Il povero cittadino non sa cosa fare, non sa come difendersi da questi tizi che innanzitutto cercano di difendere i propri diritti e poi quelli dei ricchi. Praticamente il cittadino viene tagliato fuori per poter arrivare a una fine di questa avventura parlamentare di questi individui che si succedono anni dopo anni, cosa bisogna fare? Bisogna porre fine al principio di suffragio universale. Questo suffragio universale è una grandissima puttanata attualmente in Italia, perché dico questo? Lo dico con molta serenità senza fare troppe sceneggiate, troppe cose dette così, col sangue agli occhi, lo dico con molta calma. Il suffragio universale non è più una cosa legale in Italia, perché suppone o presuppone un suffragio universale che il popolo sia calmo, sereno e anche educato, preparato e che abbia dentro di sé un sentimento verso lo Stato. Di tutte queste cose il popolo italiano ne ha una quantità minima, quasi invisibile, quasi inesistente, pertanto questo suffragio universale non può esistere più. Facendo un esempio molto pratico ci possiamo rendere conto di ciò che diciamo, cioè com'è che si può fare entrare, mettiamo, una persona che non è andata neanche a scuola, una persona che sta in piedi perché ci deve stare, perché deve così sopravvivere, che poi si arrangia e si arrabbatta a destra e a manca e poi questa persona va dentro la cabina a votare cosa? Cosa? Qualcuno che gli ha promesso a questo tizio qualcosa? E lui magari poi di tizi che promettono ne troverà diverse sulla sua strada e poi alla fine cercherà di votare quello che gli offre di più. E di questi personaggi ce n'è una percentuale molto alta in Italia. Poi ci sono quei personaggi che fanno parte di famiglie così alla buona e queste persone voteranno anche loro per le promesse fatte da qualcuno. Per andare a finire poi alle famiglie, e sono tantissime in Italia, qua si parla di milioni e milioni di persone che vivono in un contesto mafioso, delinquenziale, proprio come professione. E quindi queste persone votano qualcuno che li rappresenti. Certo perché non è che questa persona ha un'idea oppure ha il desiderio, il sentimento di cambiare in meglio attraverso dei parlamentari la situazione italiana. Non ci credo proprio, non ci crederebbe nessuno. Questa persona cerca qualcuno che poi possa salvaguardare gli interessi di queste persone che sono tutte delinquenti. Tutto qua è semplice. Ecco perché dico il suffraggio universale è scaduto, è finito, non serve più. Bisogna cercare di creare un pass, come è stato per la pandemia, un pass per creare la possibilità a una persona di poter entrare in cabina. Cioè in cabina si entra con un pass, ossia se una persona ha superato determinate prove e poi questo pass dice che lui è valido per poter entrare in cabina e votare. Queste prove dovrebbero essere semplicissime davanti a tutti. Deve innanzitutto nascere sul suolo italiano, deve parlare in italiano, deve essere istruito in Italia ed essere italiano, non deve avere la sua famiglia nessun tipo di reato alle spalle, né di galere, né di furti, né di niente, perché queste persone non dovrebbero più votare, perché quando una famiglia si è immacchiata di furti o reati ancora più gravi, come omicidi e così via, queste persone non dovrebbero votare più, ma neanche i figli, neanche i nipoti, per diverse generazioni non dovrebbero votare più, perché queste persone non hanno diritto di poter esprimere un'opinione e ancor meno di cercare un individuo che possa rappresentare gli italiani in Parlamento. tutto qua. Questo è il problema. Fin quando noi resteremo col suffraggio universale, purtroppo ve lo dico apertamente, non cambierà mai niente, anzi le cose vanno sempre a peggiorare, perché le bande di delinquenti aumentano, le organizzazioni mafiose aumentano e giustamente aumentano anche questi individui che vengono mandate da questi delinquenti che entrano in cabina e che poi arrivano al Parlamento e vanno a rappresentare non gli italiani, bensì gli interessi di questi mafiosi. Tutto qua. È semplice l'equazione, non è che è difficilissimo. Volete continuare così? vogliamo continuare così? Il cittadino o si rassegna definitivamente oppure tenterà di diventare anche egli un ladro, un delinquente, un mafioso e solo così potrà essere salvaguardato e rappresentato da chi poi verrà mandato al Parlamento. A voi tutti, buona serata.